Abbiamo ringraziato perché è la prima uscita di Draghi nel paese. Vero. Post pandemia diciamo che non è ancora finita però. Ma perché è venuto? In primo luogo perché voleva vedere con i suoi occhi cosa succede per l'Italia e per l'Europa a Bologna, in Emilia-Romagna. Noi grazie a finanziamenti Unione Europea e del governo al tecnopolo di Bologna verrà il centro meteo europeo e di fianco il super computer di calcolo, lettura e trasferimento dei big data tra i più veloci al mondo. Io so che i media parlano molto di polemiche e si occupano a volte poco di cose importanti per la vita dei cittadini. Ecco, io mi auguro che ci si occupi molto di quello che le sto per dire. In Emilia-Romagna avremo l'82% della capacità di calcolo italiana e il 21% di quella europea. Il sole 24 ore, tre giorni fa, titolava la nuova Silicon Valley perché lì avremo una potenzialità di calcolo e di competitività digitale che permetterà all'Italia e l'Europa di essere finalmente competitiva tra i colossi cinesi e statunitensi. E poi l'abbiamo portato e voluto andare a visitare una impresa ceramica Aspetti, aspetti, prima dell'impresa ceramica perché lei mi sta dicendo una cosa che è oggettivamente molto interessante. Però mentre lei mi racconta di questo cervello elettronico e le dico, lo dico alla mia maniera, mi piace assai perché mi fa sentire moderna, no? Mi fa sentire di essere parte di un paese che guarda al futuro e però contemporaneamente penso che ci sono tante zone d'Italia in cui non c'è la banda larga, in cui è difficile collegarsi ad un computer. Come stanno insieme le due cose, Presidente? Stanno insieme se il governo da un lato e nel PNRR per fortuna la transizione digitale è prioritaria insieme a quella ecologica si porta la banda ultralarga e la fibra ottica in tutto il territorio. Lei sappia che l'Emilia-Romagna oggi è la regione più digitalizzata d'Italia ma anche da noi non arriva ancora ovunque perché una parte la facciamo noi ma una parte la deve fare lo Stato, il governo e lì c'è un ritardo vero che si è accumulato in questi anni e d'altra parte giustamente lei tocca un tasto dolente l'Italia era uno tra i fanalini di coda nei 27 paesi dell'Unione Europea per ritardo digitale non se lo può permettere la seconda manifattura d'Europa e uno dei paesi più industrializzati del mondo però vede avere tutto quello che avremo qui in Emilia-Romagna a brevissimo è la premessa per essere nei prossimi anni competitivi in Europa e nel mondo come pochi altri. Ok però mi viene in mente un altro